Gigi a tutti ragazzi sono Eleni e ancora una volta bentornati su Destiny Oggi è venerdì il che significa che Zur vi presenta il Bungie Weekly Update Questa è una rubrica suddivisa in due parti Nella prima vi parlo del Bungie Weekly Update Ovvero la rubrica che settimanamente Bungie pubblica su Bungie.net Dove spiega le ultime novità inerenti al mondo di Destiny Mentre nella seconda parte di questo video vi faccio un'analisi più o meno completa Di ciò che vende Zur e se conviene o no acquistare ciò che sta vendendo Se vi interessa solamente Zur vi ricordo in descrizione c'è il minuto al quale andare direttamente solo per quella parte Altrimenti rimanete qui e gustatevi il Bungie Weekly che vi annuncio È molto molto corposo, infatti il video non è corto proprio a caso Ora cominciamo col Weekly La prima novità importante è che più o meno ci si aspetta che la prossima espansione Il Casotto dei Lupi dovrebbe veder luce tra aprile, maggio e giugno di quest'anno Ma saranno disponibili ulteriori dettagli in futuro Qual è il vero succo del Bungie Weekly? È l'aggiornamento delle armi Esatto, le armi verranno cambiate un po', adesso vediamo un po' come Diciamo che nell'update 1.1.1 che dovrebbe essere pubblicato per la fine di febbraio Dovrebbe contenere tutte queste modifiche alle armi Incluso il fix alle armi pesanti che ho trattato nel video precedente Allora, andiamo con ordine Partiamo proprio dai fucili automatici Qual è l'idea di Bungie per i fucili automatici? Beh, il fucilo automatico per Bungie dovrebbe essere buono Anzi, ottimo Sia dalla media che dalla distanza ravvicinata Bungie vuole prevene molto sul fatto che Scegliere i perk in base alla stabilità o alla gittata Farà la differenza Quando poi andremo ad utilizzare quell'arma Ma adesso ne parliamo meglio Quali sono i cambiamenti imminenti dati alla mano? Beh, una diminuzione del danno base dei fucili automatici del 2,5% Qua dice calcolato in base al ratio di fuoco In pratica le armi con alto ratio di fuoco dovrebbero soffrire di meno di questa riduzione Rispetto a quelli con basso ratio di fuoco Voi pensate al Suros Spara pochi colpi ma ciascun colpo è pesante Bene, il 2,5% calcolato su ogni colpo pesante di un Suros Penso si senta di più rispetto ad uno stesso mini colpo sparato da un epilogo di Ateon Questa è più o meno l'idea Ma come ho detto La modifica sostanziale riguarda proprio il range Quindi la gittata dell'arma Ci sarà il cosiddetto fall off Il fall off è quando per esempio Se io ho il mio avversario a 50 metri So che la mia arma ha un fall off di 51 Cioè da 51 metri in poi Ogni volta che colpisco quel nemico Quel danno che faccio al nemico sarà diminuito Quindi da 0 a 50 metri gli faccio 50 e solo colpisco la testa Da 51 metri gli farò 40 E così via Sino a non colpirlo proprio In pratica aumentano il fall off Quindi colpire i nemici da una distanza più che media Dovrebbe comportare penalità A meno che non scegliate di utilizzare appunto i pelche che migliorano la gittata Pena la stabilità Ecco quindi la scelta che dovrete fare sui fucili automatici Stabilità o gittata? Beh dipende dal fucilio automatico Dalla mappa e da tanti altri fattori Che questo deciderà il singolo giocatore Parliamo invece dei fucili ad impulsi L'arma meno usata del gioco sia in PvE e in PvP Chiaro perché fanno schifo Detto in parole povere fanno schifo Allora Bungie pensa che dovrebbero essere ottimi Sia dalla media a distanza Ma potrebbero essere utili sia anche dalla corta Che dalla breve che dalla lunga distanza Allora come fare per risolvere questo problema? Ammenteranno del 9,7% il danno base di ogni fucile ad impulsi Quindi chiaramente con un danno del 10% aumentato Capite bene che i fucili ad impulsi Cominceranno finalmente ad avere la loro giustizia Passiamo invece ai cannoni portatili Allora qui dice Bungie il cannone portatile dovrebbe essere un'arma ottima dalla media a distanza Un'arma che dà il meglio di sé quando si spara con calma e con un certo ritmo Ma diventa meno performante quando si comincia a sparare in maniera veloce Quindi perdendo di precisione Allora quali sono i cambiamenti? Tutte le armi, tutti i cannoni portatili avranno un debuff Quindi avranno l'agitata diminuita proprio perché Come ho detto prima il fall off comincia prima Quindi siccome al momento ci sono alcune armi Tipo il falco lunare Che in pratica sono quasi utilizzate come se fossero fucile da cecchini Perché hanno un'agitata incredibile Lo scopo di Bungie è quello di rendere I cannoni portatili armi da media a corta distanza Non potete fare i cecchini con le pistole portatili perché non avrebbe senso secondo Bungie Quindi cosa fa Bungie? Diminuisce l'agitata In modo tale che Non siano più quelle armi da cecchini Ma saranno comunque armi effettivamente valide dalla corta e dalla breve distanza Passiamo invece ai fucili a fusione Croce delizie di destini Allora i fucili a fusione per Bungie dovrebbero essere delle armi ottime alla media distanza A patto che il vostro obiettivo sia facile da mirare Ma che allo stesso tempo non sia vicino abbastanza da attaccarvi mentre voi caricate il colpo Quindi è un'arma che richiede un certo tipo di visione tattica Perché bisogna giocare ad anticipo Voi dovete sapere che il vostro avversario sta per fare quella mossa e anticiparlo di conseguenza Quali sono le grosse modifiche? Beh, il cono di fuoco dei fucili a fusione sarà aumentato Cos'è il cono di fuoco? Quando voi sparate col fucili a fusione vedete dei piccoli raggi che cercano più o meno di andare dritti Però tendono ad andare verso l'esterno Ecco, il cono di fuoco sarà allargato Quindi quei colpi andranno ancora più verso l'esterno Questo cosa comporta? Quasi nessun cambiamento Se lo scontro è dalla breve o dalla media distanza Ma sarà cruciale invece se cercherete di colpire gli avversari Quando questi sono più che a media distanza Quindi se voi normalmente siete abituati ad uccidere con un colpo solo uno Che è più che alla media distanza Non ci riuscirete Ma piuttosto se questo avversario vicino a sé ha altri obiettivi Colpirete anche gli altri obiettivi Quindi non ci sarà più il one shot da una certa distanza Qual è l'altra grossa novità? È che quando comincerete un match di crogiolo Avrete le munizioni base speciali minori Insomma, avrete meno munizioni quando partite Sia quando fate un match sponate nel match crogiolo Sia che quando vi loggate per la prima volta Anche facendo una missione di storia Quindi se io adesso dovessi loggarmi Se la patch fosse attiva Avrei, che ne so, un quantitativo X di colpi Che ne so, 6, 7 Se poi continuo ad andare avanti nella storia Quei colpi non mi vengono tolti Proprio perché il bug delle munizioni viene risolto Quindi quando voi entrate nella partita Se è un match di crogiolo Ci sarà sempre il reset delle armi Se invece entrate in modalità storia Avrete delle munizioni base Che poi pian piano riempirete E vi riporterete appunto con voi Quindi questa è la grossa, grossissima modifica Che poi verrà riportata anche quando parleremo tra poco Anzi, adesso Dei fucili a pompa Allora, qual è lo scopo dei fucili a pompa? Sono delle armi eccezionali Le migliori armi possibili e immaginabili Da scontro ravvicinato Cioè a portata di melì Melì sarebbe il pugno Quindi quando voi siete a distanza da cazzotto Quello è più o meno il range La gittata del fucile a pompa Allora, quali sono i cambiamenti? È che il danno sarà aumentato del doppio Del 100% Però, attenzione Solo contro tutti i non guardiani Quindi, tutti i mostri controllate lo computer Se normalmente voi fate Gli fate 100 Con la patch gli farete 200 Questo solo, ripeto Contro i non guardiani Verrà anche ridotto Verranno ridotte anche le gittate Dei fucili a pompa con alte gittate Per esempio il verdetto raggiunto Che è una gittata esagerata Sarà uno di quelli che sicuramente verrà impattato In pratica tutte le gittate Dei fucili a pompa con alta gittata Verrà ridotto In modo tale che Sarà più un'arma da distanza ravvicinata Che non un'arma da vicino o media distanza Anche qui Come fucile a fusione Stesso discorso dei proiettili Quindi, ripetiamo All'inizio di ogni match crogiolo I vostri proiettili speciali Saranno minori di numero Rispetto a quanto non lo siano adesso Allora, per quanto riguarda invece I fucili da cecchino Ricognizione Mitragliatrici Non ci sono particolari novità Quindi sono armi che Più o meno non verranno intaccate O se verranno intaccate Non saranno modifiche così drastiche Ora, per quanto riguarda Zur, come avete già notato Ci sono già due oggetti Con la I in alto a destra Significa che per acquistarli Dovete possedere L'oscurità dal profondo Ovvero l'espansione Partiamo con la casa di vetro Un elmo per titano In particolare difensore Aumenta la durata di Benedizioni della luce E armi della luce Benedizione della luce È uno scudo Un over shield Che prendete Quando passate sotto Lo scudo del difensore Che è appunto Uno scudo supplettivo Che potete portarvi Al di fuori Dello scudo stesso Del titano E armi della luce In pratica Tutti i danni Con le vostre armi Sono aumentati Per un periodo di tempo Limitato Con questo casco Il periodo di tempo Viene steso Se consigliate di acquistarlo Beh Anche qui Se Diciamo Avete Qualche strana moneta in più E avete un difensore Un titano difensore Io potrei anche consigliare Dico Acquistarlo A meno che non abbiate Che ne so Armamentarium O Un altro tipo di Oggetto Più performante di questo Insomma Io gli darei un 6 Un 6 Invece qui Gli do un bel 8 A non toccarmi Che ripeto C'era già la settimana scorsa Sono i guanti Per il cacciatore Essere danneggiati Con un attacco Corpo a corpo Che rende invisibili Per breve tempo Quindi se un nemico Umano o non Vi attacca con un colpo Milì Quindi un pugno Voi diventate invisibili Per 6 secondi Quindi Se i nemici Per 6 secondi Non vi vedono Non vi attaccano E quindi siete Momentaneamente immortali Diversamente Non si può dire Degli esseri umani Perché se voi giocate In crogiolo E sparite Comunque rimanete Più o meno visibili Ok Quindi Ripeto Io A questo armamento Gli darei un bel lotto pieno Se ci avete i soldi Compratevelo Se non ci avete i soldi Cercate i soldi E compratevelo Perché penso sia Uno degli oggetti Migliori Proprio per la classe Del cacciatore Abbiamo poi Spezzasoli Questi guanti Per stregone Non richiedono L'espansione Niente in alto a destra Sono particolarmente Dedicati Agli stregoni Cantori del sole In pratica Il perk principale Vi aumenta La durata Di granata solare Granata solare La classica Granata dello stregone Ecco qua Ciclo dell'Elio Aumenta La durata Di granata solare Sono dei guanti Abbastanza interessanti Magari all'inizio Quando il gioco uscì Erano quasi obbligatori Adesso magari Lo sono un po' meno Visto che ci sono altri esotici Tipo il casco Che sto utilizzando Che in quanto Occupa già uno slot di esotico Insomma Se non avete Un paio di guanti esotici Comprateveli Se invece ce l'avete Lasciate perdere Risparmiate i soldi Arriviamo invece All'arma della settimana L'avrete vista sicuramente Più volte Nel corso di questi mesi Comunque E il piano C Un fucile a fusione Con danno ad arco Dal look molto accattivante Devo dire Mi piace un sacco Ma ha affermazioni estetiche A parte Come ho detto Ha un tipo di danno ad arco Le sue particolarità sono Che ha un fuoco a bruciapelo Quindi quando si spara a bruciapelo La precisione di quest'arma aumenta Tradotto Il fantastico cono Di sparo Dovrebbe essere più contenuto Visto che ne abbiamo parlato prima Un'altra modifica importante Bobina accelerata In pratica aumenta Cioè riduce il tempo Che ci vuole per sparare Il colpo Poi ci sono chiaramente Altri perk Che modificano L'agitata Come forgiatura a martello Equilibrio perfetto Aumentano la stabilità Qual è il vero perk? Appunto piano C Dopo essere passati a quest'arma I tempi di carica Ed equipaggiamento Sono molto brevi Cioè state usando un'arma primaria O una pesante Appena passate a questa Ci passate molto più velocemente E il colpo è già quasi pronto Dovete Justo tenere Premuto il grilletto di sparo Che il colpo partirà Nella metà del tempo E' chiaro che non è una cosa Che potete fare ogni volta Cioè non è che potete Che ne so Pistola Fucili a fusione Pistola Fucili a fusione Sparate velocemente No Questo tipo di perk Ha un suo cooldown Ignoto Ma ce l'ha Quindi non è una cosa Che potete fare Ogni volta E come dice La descrizione I bravi combattenti Hanno sempre un piano D'emergenza Gli ottimi combattenti Non ne hanno bisogno Cioè se voi siete in difficoltà Tirate fuori il piano C Gli sparate il colpo Al povero avversario E lo ammazzate E' un'arma particolarmente Indicata per il P.U.P Come perk Io segnalo Balistica ravvicinata O controllo di rincuno intelligente Aumenta la stabilità Appena della gittata Ma potete utilizzarlo In combinazione con Recupero Che appunto Vi permette di sparare Più velocemente Se consiglio quest'arma Beh è uno dei migliori Fusili a fusione del gioco Se non il migliore in assoluto Per il P.U.P. Quindi per il crogiolo Se invece non siete Dei giocatori assiditi Da P.U.P. Potete anche Schippare quest'arma Al sette strane monete Chiaramente Frammento esotico Questo c'è quasi ogni settimana Anzi ogni settimana Anche questa settimana Abbiamo degli engrammi Abbiamo gli engrammi esotici Per i guanti E qui la solita carrellata Di tutti Di tutti gli armamenti Che potete acquistare Da Azure In cambio di Lumen Un frammento esotico E il pezzo originale Che magari avete Dropato prima Della release Dell'espansione E oscurità del profondo Oramai lo sapete Date indietro il vecchio A 300 E prendete quello nuovo A 331 Con i perk Tutti resettati Qui abbiamo le telemetrie Vi ripeto Le telemetrie Sono degli oggetti Che si comparano Cumulabili Se voi state sviluppando Che ne so L'aculio E volete far salire L'aculio in fretta Comprate uno di questi Applicatelo Dura 30 minuti Tutte le esperienze Che ricevete Normalmente Su aculio Dovrebbe essere raddoppiato O forse Maggiorata Del 20% Non lo so Comunque Con questo perk Aumentate L'esperienza Ottenuta Per quella singola arma Qui ci sono i propulsori Aumentano la durata E la velocità Dei vostri astori rari Quindi blu E ne cambiano In questo caso Anche il colore Il colore della scia Bene Direi che Abbiamo terminato Per questo Bungie Weekly Update E per Zur Mi dispiace Se il video risulta Particolarmente lungo Ma non avevo altra scelta Perché le cose da dire Erano Veramente Veramente Tante Bene Che dire Alien vi saluta Alla prossima Gigi a tutti Peace That came from the moon